Borse, portafogli, giocattoli, occhiali da sole, scarpe, abbigliamento anche intimo. Tutto firmato dalle più note case della moda, a cominciare da quelle italiane, peccato che marchi, loghi e gli stessi prodotti erano dei falsi, puntualmente distrutti dai funzionari dell'Agenzia delle Dogane e dei Monopoli di Perugia. L'ultimo intervento risale a ieri pomeriggio quando presso gli impianti della società partecipata dal Comune di Perugia per i servizi di smaltimento rifiuti i funzionari ADM hanno proceduto a una prima distruzione dei materiali contraffatti sequestrati negli ultimi tempi insieme ai militari del Comando Provinciale della Guardia di Finanza negli spazi doganali dell'aeroporto. Decine di prodotti che, ai controlli dei bagagli a seguito dei passeggeri in transito dallo scalo aeroportuale, sono risultati in violazione dei diritti di proprietà intellettuale pericolosi per la salute dei consumatori. Merce che se originale avrebbe avuto un valore di diverse migliaia di euro. Distrutti anche i tabacchi esteri lavorati e tabacco sfuso sequestrati negli ultimi mesi sempre all'aeroporto Umbro. Nei prossimi giorni si procederà a una seconda distruzione di beni contraffatti sottoposti a sequestro amministrativo.